Stavolta il pareggio acciuffato nel finale sta stretto al Teramo che ha giocato alla pari e per larghi tratti anche meglio del più quotato Vicenza che forse si è specchiato un po' troppo dopo il casuale vantaggio del primo tempo. Ripresa tutta di matrice teramana con Vicenza schiacciato e preoccupato a difendersi dalle rabbiose incursioni del diavolo. A tre del termine ci ha pensato Proietti, oggi uomo ovunque con una prodezza balistica leggermente deviata dai 25 metri applaudita anche dai 9.000 del Romeo Menti. La partita nel Vicenza out il bomber Giacomelli ex Pescara al suo posto il tecnico Colella getta nella mischia tronco che lo ripagherà con il momentaneo vantaggio in difesa al posto di Andre Onice e Davide Bianchi. Teramo incerottato a marcar visita sono Speranza, Barbuti, Spighi e Vitale rientra in difesa Caidi costretto poi ad uscire nella ripresa che guida il reparto completato da Fiordaliso e Piacentini con ventole e celli ad agire sulle corsie esterne. In mediana Proietti davanti alla difesa con Persi e Mantini esordio per il giocatore De Grazia Ciaccato e parte dalla panchina mentre in attacco Zecca va a fare coppia con Piccioni che ha militato nella primavera del Vicenza nella stagione 2008-2009. Dopo aver visto alcuni tentativi tutti di marca Teramana al trentesimo da segnalare questo tiro di Proietti dal limite di poco a lato. Tre minuti dopo il Vicenza va improvvisamente in vantaggio con Tronco il giocatore in piena area del Teramo è favorito da un rimpallo tira da pochi passi a botta sicura miracolo di Lewandowski la sfera rimane lì Tronco da terra ribadisce in rete per l'1-0. Vantaggio è meritato ma tant'è il Teramo sostituisce nel finale di tempo per quei muscolari ventola con De Grazia il neo entrato si piazza a centrocampo Mantini prende la posizione difensiva lasciata da ventola. La ripresa sarà tutta o quasi del Teramo. Il Vicenza tuttavia potrebbe far male di nuovo al nono con Armà liberato in area da Laurenti il suo tiro a girare si perde di poco a lato. Un minuto dopo il Teramo getta al vento il pareggio Zecca si invola da solo verso la porta del Vicenza il giocatore arriva tu per tu con grandi ma spara incredibilmente alle stelle un errore imperdonabile. Il Diavolo prende sempre più campo al quarto d'ora Piacentini fa gridare al gol intanto deve uscire Caidi al suo posto Bacio Terracino un attaccante ora il Teramo si difende a quattro. Venticinquesimo punizione per il Teramo da buona posizione tira Piccionico non inquadra la porta per un soffio con grandi fermo tra i pali. La capa arbitrae viene premiata alla quarantatreesimo è un grandissimo gol di Proietti il giocatore si mette in proprio e lascia partire un tiro potente e preciso leggermente deviato che si insacca alle spalle di grandi per il meritatissimo 1-1. Il Teramo annusa l'impresa con il Vicenza in debito d'ossigeno qui di Renzo subentrato in corso d'opera rovescia in piena area sfera sulla traversa. La squadra di Maurizzi ne ha ancora ma il punto può andare bene perché è arrivato attraverso un gioco convincente e propositivo il modo migliore insomma per prepararsi alla gara del Bonolis nel turno infrasettimanale di martedì alle 20.30 contro un'altra corazzata il Pordenone.